La purificazione di Gabriele Laghi Estratto dal gazzettino di Vega, prima pagina Titolo Indietro di 200 anni, stop alla purificazione Depositata in aula alla richiesta di discussione sulla legge 10.2515 Ennesima provocazione o qualcosa di più Nel corso degli ultimi giorni stiamo assistendo ad un violento attacco ai fondamenti della nostra civiltà presso gli organi legislativi E' con insistenza e capabilità che i dilettanti allo sbaraglio della nuova affermata forza politica, detti anche Cont tentano di abbattere a colpi di clava i pilastri portanti della nostra società Anche se siamo ormai abituati alle sciocchezze quotidiane che giungono alle nostre orecchie da parte di questi contestatori che pure hanno guadagnato una consistente presenza in Parlamento alle ultime elezioni Quando si odono dichiarazioni come queste non si può fare a meno di allarmarsi Sì, perché la grande nazione in cui viviamo si fa garante della libertà individuale, fisica e intellettuale di ogni cittadino Sì, ma in quale modo può venire modellato e sfruttato tale nobile diritto molto duramente acquisito E oggi è chiaro a chiunque L'ultima folle trovata, seppur probabilmente destinata a fallire così come spesso è accaduto alle battaglie dei Cont è quella che prevede la possibilità legale di astenersi dalla purificazione settimanale Tanto verrebbe legalizzare gli scioperi e perché no, anche la pornografia La purificazione Contrariamente a ciò che viene scorrettamente fermato da questi estremisti non è assolutamente una procedura invasiva ma una semplice operazione di prelievo di informazioni dalla corteccia cerebrale Non vi è quindi alcuna asportazione di materiale organico Segue a pagina 3 Agli albori del millennio era prassi consolidata asportare parti di organi colpiti da tumori o altre gravi patologie Con grandi benefici per quei tempi Ora la nostra medicina ci permette di prevenire l'insorgenza di tali mali Non è caso è stato fatto un paragone con il tumore Per spiegare tale termine ai bambini nelle scuole si usa tuttora la definizione di cellule impazzite Mai è stata pronunciata la frase più giusta Allo stesso modo la violenza è un cancro per la nostra società ed esso non va soltanto curato quando ormai è presente ma prevenuto ed è proprio grazie a questa prevenzione che non si registrano crimini violenti da tempo immemorabile Purtroppo e sottolineo il termine la razza umana possiede una grande violenza intrinseca proveniente dalla sua natura animale La purificazione non è altro che un vaccino contro la violenza Per questo motivo immaginate quali benefici siamo oggi in grado di ottenere senza alcun reale intervento invasivo Come si può essere così ciechi da non vedere la grandezza di tale pura tecnologia? Per quale motivo mettere sotto processo uno dei maggiori e più efficaci metodi di stabilizzazione della nostra società? Domando a voi, lettore dal più giovane al più anziano Ricordate per caso alcun crimine violento avvenuto da quando avete memoria fino ad oggi? Naturalmente no Non potete Non potete perché naturalmente non è mai accaduto da quando il nostro sistema di estrazione del male è in vigore da oltre 120 anni non è più stato registrato alcun atto criminoso di effettivo rilievo Una delle maggiori critiche urlate dai Comte è La legge di 10-2015 è assolutamente superata Forse se avessero seguito qualche lezione di storia in più quando andavano a scuola sarebbero stati meglio informati Questa filosofia, perché di questo si tratta non è una brutale legge emanata da qualche scellerato riformista bensì da una squadra di governo con una vita di esperienza e consapevolezza che dopo secoli bui di brutalità e violenza è stata in grado di concretizzare il sogno di una società quasi perfetta I nostri lettori non sono persone poco avvedute è noto che per la nostra stessa natura siamo portati a imitare E così come è all'ordine del giorno che un bambino si faccia male perché imita il suo eroe dei fumetti così una qualunque persona è portata ad essere influenzata negativamente dalle cattive azioni Questo è un dato di fatto Qual è il meccanismo mediante il quale la società è curata dai propri mali e aiutata a rimanere sana? Se ci pensate è banale il rilevamento dei tasselli negativi delle proprie esperienze Com'è possibile sentirsi meglio eliminando il dolore e una volta estirpata l'erbaccia dal prato il risultato sarà un armonioso e piacevole giardino dove vivere sereni con i propri cari Mi vedo infine costretto a rispondere a una critica ostile che mi è stata mossa nella giornata di ieri che mi vedrebbe poco imparziale nel giudicare le azioni intraprese recentemente dai cont e di prendere posizioni troppo caute e accondiscendenti con la linea politica attuale Ricordo che la libertà di pensiero è uno dei principi cardini della nostra civiltà In quanto giornalista, nonché opinionista il maestiere stesso mi impone di prendere una posizione giudicando un fatto Sono dunque libero di esprimere le mie idee e di giudicare positivamente o negativamente ogni accadimento senza dovermi giustificare Devo inoltre aggiungere che naturalmente i giudizi che esprimo io, come tutti i miei stimati colleghi si basano su un'analisi dettagliata e uno studio approfondito di ogni caso nonché sull'esperienza di anni di duro lavoro studio e sacrificio Nel momento in cui vengono brutalmente avanzate simili sciocchezze quale la suddetta proposta di legge la mia onestà intellettuale non mi permette di prendere altre parti se non quelle di chi non porterà alla rovina la serena e pacifica convivenza della società in cui tutti noi viviamo Ad ogni modo, il sottoscritto non ci tiene affatto a fare dell'ingiustificato allarmismo fino a che la richiesta non approderà in aula non potrà essere presa alcuna iniziativa dissidente al riguardo e ogni singolo cittadino, così come ciascun parlamentare sarà obbligato a sottoporsi alla purificazione A tal proposito ricordo che la prossima è prevista per venerdì Speriamo che molti di questi parlamentari colmi di violenza latente in attesa di scatenarsi non facciano un esame di coscienza e ritornino sulle proprie idee così che magari la settimana prossima questa brutta faccenda sarà del tutto dimenticata Grazie a tutti